Ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Trochę tych rzeczy jest, ale pewnie też parę się powtórzy. I to jest dokładnie mój ukochany pleczak z Kilstara, taki bardziej nielokowy i zdecydowanie idealny towar smr, bo wydaje naprawdę piękne dźwięki. Okej. 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 Sì, 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 sì. mi siede anche in sportove nerca. C'è in suma diverso, perché non mi piace molto di più di postrani, ma sempre delle cose, qualche tipo di cose, che mi piace tutto tutto, e bebe con l'eu testa con un pezzo italiano. Abbiamo anche qualcosa che vi bisogni della precedente film. Alla ciò utilisco. Questo è il mio piore di piore, che mi sono ancora due anni stava da microfono, perché è molto giovane. e il nostro segno di długopis, che ho già mostrato, test cafeco sport. Diciamo pistolizzazione e ancora un długopis per caso di raggiungo di raggiungo. ... 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 da ASMR Sì. Grazie a tutti. 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 e mi piace molto. E mi piace molto. Mi piace molto. Quindi... ... 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 e le maggiori le cose che sono molto più sottone. Alla prossima è stato trafito, per me lo so che sono state. No, e poi abbiamo ancora un telefono, che non mi sembra nessun sottotitoli, ma non mi sembrava. Non mi sembrava, ma non mi sembrava, ma non mi sembrava. Questo è un elemento obudato, che quando mi è venuto a mi piacevole. I na pewno wiele z Was go kojarzę, natomiast ten okazało się być o tyle fajny, że faktycznie sam się w ogóle nie rusza. Przez to mogę sobie ten telefon jakoś na stole, bardzo stopi im to położyć. I teraz nowe, większe iPhone'y. Obudowy mają dołączone od razu takie podpórki, natomiast do tego mojego modelu jeszcze takiej fajnej obudowy nie znalazłam, więc odczepiam ten element od każdej starej obudowy i przyczepiam klejem do nowej. Naprawdę tak bardzo go uwielbiam. Kochani, to już tak. Nic tam więcej chyba nie ma. Mam nadzieję, że Filip Wam się podobał, że wszystko u Was w porządku, że udało mi się przynieść Wam troszeczkę relaksu i spokoju. I jeśli słuchacie tego nagrania wieczorem, to trzymam też kciuki za Wasz spokojny sen. To zobaczymy w następnym filmie. I dobranoc. Buzia. Kocz. Ku服 Beylem.